Vi ricordate Stefano Miozzo, il pizzaiolo di Cerea laureato sui campione del mondo la scorsa primavera a Parma, abbissando il successo dell'anno precedente? Le sue pizze classiche e gourmet da ieri sera si trovano anche a Veruna. La famiglia Fiorini, che nella bassa già gestisce il borgo e la palesella di Cerea e tenuta San Martino a Legnaco, ha deciso di aprire un terzo locale, questa volta in via Santa Maria Rocca Maggiora, zona piazza Enzo. Forchette, pizzeria con cucina, è la scelta di investire sulla città, i suoi buon gustai e i suoi flussi turistici. Ma perché? In realtà sono stati i clienti che ci hanno attratto verso Veruna, perché abbiamo molti clienti che frequentano il borgo di Cerea e continuavano a chiederci ma perché non aprite anche a Veruna? E di fronte a queste esistenze abbiamo detto sì, apriamo a Veruna e questo è stato fatto. Perciò Forchette è quello che Veruna ci ha chiesto. Che il proprietario sia uno dei tre sommelier che su Telearena si occupano di vino e che hanno curato la guida ai 100 migliori vini di Veruna è una garanzia anche per chi cerca il giusto abbinamento in tavola. Ma la passione per il vino ha contaminato anche il campione del mondo che lo ha inserito nel venuto delle pizza. Nei nostri locali c'è un ottimo rapporto con il vino, tanto è vero che abbiamo diversi sommelier in azienda e io ho deciso di creare o meglio omaggiare i colleghi con un impasto all'amarone che è il vino nobile della Valpolicella. Tanto è vero che troverete sempre nel nostro locale sia la Val Potera che il cortile di Nonni. Mi raccomando il cortile di Noti prenotatelo prima. Per risalvare il vostro tavolo visitate il sito forchette.it o la pagina Facebook.